Quindi, per presentare qualcuno in modo informale, diciamo questa è. Quando la persona che vogliamo presentare è femminile, diciamo questa è, questa è Maria. Quando la persona che vogliamo presentare è maschile, diciamo questo è, questo è Marco. Adesso vediamo un altro esempio. Buongiorno, signor Carlo. Come sta? Buongiorno, signora Francesca. Sto bene, grazie. Le presento il signor Giovanni. Allora, per presentare qualcuno in modo formale usiamo la costruzione le presento. Le presento il signor Bruni, la signora Bruni.